Ciao a tutti ragazzi Lei sorre Andiamo su nos Ma da chi Ah ah quanto sei brutta Allora Allora prima cosa scatichiate quest'app Per chi ha il GTA 5 Oh zitti sto parlando Madonna Oh guardate guardate Telefone altri Telefone Comunque stiamo giocando Mamma mia che casino dentro la nostra classe Perché ragazzi siamo Professoressa ci ha permesso di fare dentro la classe Cosa volevo farvi vedere Come truccare i giochi Allora dovete scaricare questa app La clip Una volta scaricata Dovete andare Tanto lo troverete Su O altri video Sennò vi lascerò il link in descrizione Ma non so come si fa Quindi vedrò Allora Noi vogliamo truccare Un'app Tanto non è che Almeno sono tutte truccate Vogliamo truccare Questo Non so Solitario Che non ha un senso Deva truccare Comunque Dobbiamo andare a Crea app File modificato App No 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 La implicazione Della level Mettiamo il ricostruisce app Non toccate niente E vabbè io vi taglierò il video Perché Ragazzi Nessuno ama vedere queste cazzate Sui video Taglia Taglia Come che si taglia Qui Allora Allora ragazzi Qui è ripartito Dopo il caricamento Succederà questa cosa Risultati Vabbè Nella patch Voi dovete andare Vai al file Cliccate Queste due fogli E poi Disinstalla E installa Aspettate un po' Cliccate su installa Poi mettiamo installa E dovrebbe Installare Solitario Cliccato Che vabbè Non funziona Quasi con tutti i giochi Nuovi Tipo Tarchine Anche roba Varia E vabbè Comunque Comunque Cosa volevo dirvi Aspettiamo Aspettiamo Che si installi No vabbè Quando avrete installato L'app Allora Questa roba Vi provi Tipo avete un gioco Che avete fatto tanto Se mettete i trucchi Vi comincerà tutto Da zero Quindi Mi raccomando Usatelo con coputela E Ci rivediamo Nel prossimo Video Anche roba No vabbè Anche roba